buonasera amici siamo alla puntata di martedì di tutto in 300 secondi come potete vedere dal titolo della live di questa sera parliamo di sanità parliamo di sanità tutto tondo in quanto sia la trasmissione quinta colonna che l'asbra di viterbo ci forniscono importanti notizie cominciamo brevemente dalla trasmissione quinta colonna ricordiamo quella di rete 4 che è diretta da paolo del debbio il giornalista di rete 4 e che ha come ospite fisso il direttore del tg4 mario giordano ebbene ieri sera era in diretta la trasmissione di paolo del debbio proprio da viterbo dal caffè grandori in particolare con due rappresentanze di viterbo del consiglio comunale di opposizione con gianmaria santucci e chiara frontini nonché molti sindacalisti del settore sanità dell'asbra di viterbo la trasmissione si è snocciolata su una serie di collegamenti in particolare due che hanno riguardato non solo viterbo ma anche altri settori della sanità italiana quindi anche altre zone dove purtroppo ci sono stati gli scandali di cui abbiamo parlato in queste settimane si parlava dei furbetti del cartellino e delle fatture confiate che hanno portato all'operazione della guardia di finanza di viterbo con 23 avvisi di garanzia all'attivo sono intervenuti il consigliere gianmaria santucci come detto il consigliere chiara frontini che insieme al direttore dell'ordine dei medici di viterbo il dottor lanzetti hanno spiegato la vicenda alla cronaca nazionale ne è uscito un quadro molto cubo di quello che è successo a viterbo che lo ricordiamo è solo uno dei tanti casi italiani in cui si sono registrate delle timbrature non regolari e delle fatture confiate quello di viterbo è un caso abbastanza eclatante in quanto si parla dalle indagini di oltre 1,3 milioni di euro di fatture non dovute lo ricordiamo il caso riguarda il centro trasfusionale di belcolle che è un centro tra l'altro all'avanguardia per le proprie prestazioni purtroppo che è stato colpito da questa vicenda insieme ai principali personaggi che lo ricordiamo sono stati tre che hanno preso la parola successivamente sono intervenuti al collegamento nel secondo anche il sindacalista dell'usb aurelio neri che ha parlato della situazione dell'asda di viterbo e del tentativo che non deve essere fatto di criminalizzare tutta una categoria che è fatta di centinaia e centinaia di dipendenti che lavorano in modo egregio quindi fare pulizia sicuramente di quello che è successo però andando a colpire là dove è necessario colpire un altro caso di sanità che purtroppo parla del torno ad attualità è la meningite purtroppo nel pomeriggio si è registrato un comunicato ufficiale dell'asda di viterbo un caso di meningite di tipo b che è stato comunicato all'asda di viterbo dall'ospedale della misericordia di grosseto su un bambino residente nel comune di montalto di castro immediatamente la dottoressa silvia aquilani che è la responsabile dei del coordinamento dei programmi di vaccinazione dell'asda di viterbo è stata allertata e sono partite le procedure previste in questo caso sono stati allertati dopo l'informazione data dai professionisti della struttura toscana appunto i medici dell'asda di viterbo che hanno preso immediatamente contatto con i cosiddetti contatti stretti vale a dire i conviventi tutti coloro che sono stati esposti come si legge nel comunicato direttamente alle secrezioni del paziente non è da allarmarsi fanno sapere dall'asda di viterbo in quanto le procedure di chemoprofilasse sono iniziate già nella giornata di ieri e termineranno si legge sempre nel comunicato verosimilmente nella giornata di oggi c'è stata una fattiva collaborazione del pediatra di libera scelta del comune di montalto di castro si legge ancora al fine di evitare inutili allarmismi tra la popolazione è doveroso mettere in evidenza che la meningite meningococcica è una patologia temibile ma rara i casi secondari non sono frequenti in quanto la trasmissione avviene esclusivamente per contatto diretto e ripetuto nel tempo con il soggetto affetto tramite goccioline nasali e faringe e quindi un caso ancora una volta di meningococco di tipo b nella tuscia però ci fanno sapere dall'asda di viterbo che non c'è da preoccuparsi c'è da mantenere ovviamente alta l'allerta ma sono scattate tutte le procedure di di emergenza previste in questo caso e quindi tutto dovrebbe essere sotto controllo poi nella giornata di domani certamente dall'asda faranno avere ulteriori notizie ricordo come sempre la possibilità di condividere questa live nelle vostre bacheche e di invitare gli amici dei gruppi e delle pagine ricordiamo che la puntata di ieri di quinta colonna non è la prima che viene fatta nella provincia di viterbo ci sono stati molti casi di cronaca segnalati a questa riuscita trasmissione che lo ricordiamo è una delle non poche che ormai vanno tra virgolette di moda per parlare di fatti gradanti sotto forma di talk show e in questo caso noi diciamo che benvenga evitiamo come è successo tante volte una spettacolarizzazione estrema di casi ben più gravi parliamo di quelli di di omicidi e cose simili che purtroppo spesso sono protagonisti nella nostra televisione saluto tutti l'appuntamento è per